Ogni giorno, nei ristoranti di tutta Italia, gli chef come Andrea mettono in ogni piatto arte, cura, carattere, passione, affinché per i clienti come Mara e Dario non sia solo un appuntamento romantico, ma anche la scoperta del loro nuovo posto del cuore. Ritorniamo al ristorante, ritorniamo a sorridere, we smile con the fork.